Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video del canale. Nel video di oggi andremo ad analizzare la deck profile del mazzo fedele della luce ispirato allo structure deck reame appunto della luce. Il mazzo si ispira insomma vagamente a questo structure ma ovviamente ho messo alcune carte insomma modificate abbastanza. È un misto un po' tra fedele della luce e paleo. Infatti ho messo un paleozoic perché mi sembrava un po' che ci stasse molto bene col mazzo perché il mazzo manda molto al cimitero e il paleo si triggera al cimitero quindi in realtà secondo me ci stava veramente veramente bene. Il mazzo è un mazzo da 40 carte passando appunto alle caratteristiche diciamo che contiene 21 carte mostro, 10 carte magia, 9 carte trappola e per l'extra invece 12 mostri ma l'ho messo un po' così a caso in realtà dopo lo andiamo a vedere meglio e vi consiglio un po' cosa andare a mettere. Andiamo direttamente quindi ad analizzare la deck profile. Quindi andiamo con il reparto mostri, la prima carta che andiamo a vedere è Minerva, fanciulla fedele della luce. Se la avete mettetela in 3x perché è veramente forte, è livello 3 tuner. L'effetto ci dice che quando andiamo a evocare noi possiamo andare a prendere dal deck e a darci alla mano un mostro drago con il livello pari al numero di mostri fedeli della luce che abbiamo al cimitero con nomi diversi. Poi se questa carta viene mandata dal deck al cimitero oppure dalla mano al cimitero possiamo mandare la prima carta del deck al cimitero e alla fine di ogni turno mandiamo le prime due carte del mazzo al cimi. Quindi è ottima. Poi passiamo al 2x di Raiden. Se la avete anche questa mettetela in 3x. Possibilmente l'effetto fondamentalmente ci dice che una volta per il turno possiamo andare a mandare due carte al cimitero. Se abbiamo mandato al cimitero un mostro fedele della luce questo mostro guadagna 200 punti in attacco ma non è tanto questo che ci interessa quanto il fatto che mandiamo più roba possibile al cimitero. Inoltre alla fine del turno mandiamo le prime due carte dal deck al cimitero. Poi ricordiamoci che è un mostro livello 4 tuner quindi ottimo per fare esincro. Passiamo poi a questa carta, lo spirito insomma. Questa carta guadagna 500 in attacco, penso 300, giusto non ricordavo, sì 300 in attacco per ogni mostro fedele della luce. Quindi insomma andrà a potenziarsi parecchio perché ne avremo abbastanza. E poi alla fine del turno mandiamo le solite due carte dal deck al cimitero. Un po' tutti i fedeli della luce hanno quest'ultimo effetto condiviso quindi che mandano le carte al cimitero alla fine del turno. Poi andiamo con Eren. Ecco qua, la mognaca fedele della luce. Quando questa carta attacca un mostro in posizione di difesa mischiamo quel mostro nel mazzo. E alla fine del turno mandiamo tre carte del deck al cimitero. Poi abbiamo un 2x di Lumia, fedele della luce. 2x questa qui basta anche perché in realtà è utile. Allora l'effetto ci dice che, ecco qua, una volta per turno possiamo scartare una carta e scegliamo un bersaglio. Un fedele della luce di livello 4 inferiore nel cimitero e io lo evochiamo special. Quindi possiamo andarci a fare, non lo so, un asincro. Se abbiamo un mostro di livello 4 fedele della luce tuner oppure un mostro di livello 3 facciamo Xyz. E poi mandiamo le prime tre carte appunto dal deck al cimitero. Poi andiamo con Wolf, bestia fedele della luce. Se la avete questa carta in tre perra, non può essere evocata normal, può essere evocata special solamente se viene mandata dal deck al cimitero. Quindi la mandiamo al cimitero, non so, con un full shiburiel o con l'effetto di un mostro fedele della luce. E si triggera e la evochiamo in special. Poi andiamo un Rico, il cacciatore fedele della luce. Inizialmente la giocavo in due perra, poi dopo ho ridotto il ratio perché una basta e avanza. Insomma, possiamo scoprirla, è un effetto flip. Scegliamo come bersaglio una carta sul terreno e la distruggiamo e poi mandiamo le prime tre carte dal deck al cimitero. Entrambi gli effetti ci interessano e quindi è per questo che la giochiamo. Poi andiamo un Garot, il drago fedele della luce. È un mostro drago quindi è utile anche per l'effetto di Minerva, ce lo possiamo dare. Guadagna 300 in attacco per ogni mostro fedele della luce con nome diverso al cimitero. Quindi anche questo qui guadagnerà parecchio in attacco. E se questa carta attacca un mostro in posizione di difesa, infligge danno piercing al loppo. E inoltre durante l'end mandiamo le solite tre carte al cimitero. Poi giochiamo un due perra di Lilia, stregona fedele della luce. L'effetto, quello qui, ci dice che possiamo scegliere con bersaglio una carta maggiata trappola controllata dal loppo. La posizione di questa carta non può essere cambiata e inoltre distruggiamo quel bersaglio praticamente. E alla fine del turno mandiamo le prime tre carte dal deck al cimitero. Poi andiamo con Celestia. Quando questa carta viene evocata offrendo come tributo un mostro fedele della luce, quindi gran parte delle volte sarà così. Possiamo mandare le prime quattro carte del deck al cimitero e scelgo un bersaglio due carte controllate dal loppo e le distruggiamo. Quindi l'effetto è molto forte. Inoltre, dobbiamo ricordarci che questa carta non manda sempre le quattro carte al cimitero, ma solamente quando viene evocata attiva l'effetto. Quindi non è che alla fine del turno dobbiamo mandare le quattro carte al cimitero. Poi abbiamo Drago del Giudizio. Lo possiamo dare con Minerva abbastanza facilmente. Oppure può essere evocato special dalla mano avendo quattro più mostri fedele della luce con nomi diversi al cimitero, quindi è veramente semplice evocarlo. Inoltre, possiamo pagare mille left points, distruggere tutte le altre carte sul terreno e durante ogni hand mandiamo quattro carte dal deck al cimitero. Dobbiamo stare attenti ovviamente a non finirci il deck perché può capitare in questi tipi di mazzi. Poi abbiamo Diablos, raggio di luce. Questa carta l'ho messa perché in realtà si evoca special molto molto easy. Infatti basta avere 5 o più mostri fedeli, mostri di luce in generale nel cimitero. L'effetto è che possiamo bannare un mostro luce una volta per turno, scelgo un bersaglio, una carta posizionata, controllata dall'oppo. Inoltre, rivelare quel bersaglio e poi metterlo in cima al deck o in fondo al deck. Quindi se è una carta utile, magari gliela mettiamo in fondo al deck. Se è una carta invece che l'oppo ce l'ha lì e che gli è in più, gliela mettiamo in cima così. Insomma, pescherà sempre Brick. Questa carta, ve lo dico subito, potete sostituirla con il Daedalus, raggio di luce. Poi dipende ovviamente contro che tipologia di mazzi giocate. Più o meno sono simili. Cambia un po' l'effetto. Questa carta si evoca avendo 4 o più mostri luce nel cimitero. E una volta per turno possiamo scegliere con un bersaglio una carta magia terreno e altre due carte sul terreno e distruggerle. Quindi questa qua, sempre se volete. Io in realtà non la gioco, preferisco l'altra. Questa magari contro mazzi che giocano spesso delle carte terreno. Io spesso me la gioco magari inside e la vado a mettere magari al posto di questa che vi ho fatto vedere. Poi andiamo con un 2x di statua barriera del paradiso. Appunto che abbiamo già sbustato precedentemente. L'ho già provata, il 2x ci sta veramente bene. Anche perché giochiamo praticamente tutti i mostri luce, quindi andiamo a bloccare molto facilmente l'oppo. Poi 1x dell'onesto. Durante la battle lo scartiamo e il nostro mostro luce che sta combattendo guadagna attacco pari al mostro con cui sta combattendo. Quindi sempre utile anche perché noi, come ho detto, abbiamo sempre i mostri luce. Poi abbiamo il favoloso. Eccolo qui. Questa carta che si evoca in special se viene scartata al cimitero. Inoltre è un livello 2 tuner ed è anche luce, quindi ci interessa molto. Poi abbiamo il favoloso corvo. Questa carta oltre che essere tuner c'ha anche l'effetto che ci dice che possiamo andare a cambiare il livello di questa carta in base alle carte che andiamo a scartare. Ad esempio io scarto una carta, questa carta guadagna un livello. Ed è molto importante perché ad esempio io mi capita di avere carte paleo, non so, in mano o carte che non mi interessano. Le mando al cimitero così questa carta guadagna in attacco e guadagna anche qualche livello in base a quello che mi serve. Così io ho anche altre carte al cimitero. E inoltre ricordo è un mostro luce. Poi abbiamo un sentinella negro, potete anche non metterla se volete. Io la metto perché in realtà potrebbe essere utile. L'unica pecca è che è un mostro oscurità. Ma se questa carta è al cimitero possiamo bannarla e annulliamo l'attacco comunque di un mostro. Quindi l'ho messa perché è un effetto che si triggera dal cimitero. Abbiamo così finito il reparto mostri e passiamo alle zone carte magia. Per iniziare giochiamo un 3x di reame della luce. Non giochiamo ovviamente terraforming, sarebbe un po' troppo. La gioco in 3x per vari motivi, intanto perché la vogliamo vedere subito, perché ci aumenta di 100 in attacco i mostri che controlliamo. Fedale alla luce di 100 per ogni segnalino che c'è splendore su questa carta. I segnalini si guadagnano quando una o più carte vengono mandate dal deck al cimitero, quindi quasi sempre. Quindi aumentano abbastanza i nostri punti di attacco, dei nostri fedeli della luce. Inoltre non viene mai distrutta perché praticamente rimuoviamo due segnalini e questa carta rimane sempre in vita. È impossibile, ce la vanno a distruggere. Inoltre la gioco anche in 3x perché mettete mai che vi andate a sideare, come vi dicevo precedentemente, il Daedalus. Potete andare a distruggerla e voi avete sempre. Inoltre con il fatto che questo mazzo manda molto al cimitero, è molto facile che questa carta vi andrà al cimitero e non avete più possibilità in realtà di riprenderla. Quindi 3x io lo consiglio caldamente. Poi andiamo con un 2x di carica, brigata della luce. Mandiamo le prime 3 carte dal deck al cimitero e possiamo andarci ad andare un mostro fedele della luce di livello 4 o inferiore dal deck alla mano. Poi andiamo 1x di carica solare, questo se potete anche in più copie, io purtroppo ne ho solamente una. Scartiamo un mostro fedele della luce e peschiamo 2 carte e poi mandiamo le prime 2 carte dal deck al cimitero. Quindi è un plus di 2. Poi 1 per, secondo me basta, del santuario, fedele della luce. Ecco, allora la carta ci dice che è un ottimo riciclo. Quindi noi abbiamo un mostro fedele della luce in mano, mandiamo un mostro fedele della luce al cimitero e poi ci prendiamo un mostro fedele della luce dal cimitero. Ora ce la diamo alla mano. Questa carta è appunto 1x per turn, guadagna anche segnalini splendore ogni volta che una più carte vengono mandate dal deck al cimitero. Poi, altro effetto molto interessante è che se sta per essere distrutta, una o più carte fedele della luce, noi possiamo rimuovere due segnalini splendore dal terreno, quindi non necessariamente da questa carta, ma anche dalla carta magia terreno o da qualsiasi carta che avrà accumulato chissà quanti segnalini. Ecco, io in 1 per la gioco. Se poi la volete in più copie, fate pure perché è veramente utile. Però in realtà ecco, io non ne ho sentito neanche la necessità. Poi andiamo con un 1 per del mostro reincarnato. Lo gioco perché magari non si sa mai se ci finisce al cimitero qualche mostro che ci può interessare. Ovviamente è d'obbligo una sepoltura sciocca. Soprattutto se andremo a mandare il lupacchiotto oppure anche qualche altro mostro che si triggerà dal cimitero. E poi anche questa quasi d'obbligo, una gerra della dicotomia per fare in modo che se ci finiscono delle carte sul nostro cimitero, che non vorremmo, noi le prendiamo, le mischiamo nel mazzo e poi plussiamo pure. Quindi veramente buona, anzi se potete giocatela anche in più copie questa. Poi passiamo al reparto trappole. Andiamo con un'abilità risolutiva, ovviamente tutte carte che si triggerano dal cimitero. Abilità risolutiva, nega l'effetto di un mostro, poi possiamo bannarla e nega l'effetto del mostro. Ovviamente possiamo attivare l'effetto dal cimitero, non nel turno in cui l'abbiamo mandata. Poi abbiamo un successore di abilità, il mostro che controlliamo guadagna 400 in attacco fino a fine del turno. Possiamo bannare questa carta, non nel turno in cui è stata mandata al cimitero, sempre quella, e il mostro guadagna 800 in attacco. Poi andiamo con anfora dell'avarizia per prendere 5 carte che abbiamo nel cimitero, le andiamo a mischiare nel mazzo e poi plussiamo pure. Sempre per il fatto che rischiamo quasi di essere senza risorse poi nel mazzo, di esaurirlo molto velocemente. E poi passiamo al reparto paleo, abbiamo un canadia paleozoica, marello paleozoica e poi tutto il vario reparto paleo. Eccolo qua. Adesso non è che vi sto dire gli effetti perché fondamentalmente sono sempre gli stessi. Cambia solamente il primo effetto che si attiva come carta trappola, raramente lo andremo ad utilizzare. Però vi dico semplicemente che quando viene attivata una carta, insomma una volta per catena, possiamo specialare questa carta dal mazzo come un mostro fondamentalmente di livello 2. Quindi aspettiamo magari che ce ne abbiamo parecchie nel cimitero, poi dopo quando ne abbiamo abbastanza ce le andiamo a specialare tutte e poi ci andiamo a fare l'ixis del caso. Ecco, velocemente magari vi leggo gli effetti. Magari il primo, qui scartiamo una carta paleo e peschiamo 2. Quest'altra invece, c'è un bersaglio un mostro che controlliamo. I suoi attacchi e la difesa diventano la metà dei suoi attacchi originali fino alla fine del turno. Quest'altra invece, c'è un bersaglio un mostro scoperto sul terreno e guadagna 500 in attacco e difesa. Poi, c'è un bersaglio una carta trappola o magia sul terreno e la distruggiamo. Qui invece, mandiamo una carta trappola dal deck al cimitero, questa qua è una delle carte più utili. Quindi, insieme a questa, c'è un bersaglio un mostro scoperto e controllato all'avversario e lo settiamo. Abbiamo così finito il mazzo e andiamo a vedere l'extra deck. La prima carta che andiamo a vedere è Michael, l'Arce Fedele della Luce, appunto il boss monster del caso, si evoca veramente easy. L'effetto ci dice che una volta per turno paghiamo 1000 e banniamo una carta del loppo. Se questa carta, per assurdo, venisse distrutta, noi possiamo rimischiare i mostri fedeli della luce dal cimitero o nel mazzo e guadagniamo 300 love points per ognuno di essi, quindi veramente può fare miracoli questa carta. Arriviamo a cifre molto alte, ecco, spesso, di love points. E una volta alla fine del turno mandiamo le prime tre carte dal deck al cimitero. Poi passiamo con qualche carta un po' così a caso, sincro, però ovviamente qui potete scegliere voi. Io vi consiglio, ecco, un livello 6, io ho solamente questo, che ha un effetto abbastanza inutile. Se questa carta distrugge un mostro dell'avversario in battaglia infliggiamo danno pari alla metà dell'attacco originale del mostro distrutto. Contando che è solamente un 2002, possiamo veramente far poco. Però ricordatevi meglio un livello 6. Possibilmente tutti i mostri che andate a inserire metteteli luce. Ovviamente perché giochiamo le due per di barriere e quindi tutto il mazzo fondamentalmente si basa sui mostri luce. Quindi possibilmente giocate, ecco, non mostri così a terra o di vari attributi. Poi un livello 9, d'obbligo. Io in questo caso gioco Castello Nuvola, che è abbastanza utile. Allora, l'effetto ci dice praticamente che possiamo scegliere come bersaglio un mostro di livello 9 nel nostro cimitero, evocarlo special, ma ovviamente questo qui non accadrà. E i mostri di livello 8 o inferiore non possono attaccare nel turno in cui vengono evocati normalmente o posizionati. E questo va a bloccare anche parecchio l'oppo. Inoltre, il mostro di livello 9 è abbastanza semplice, ecco, da evocare. Poi passiamo al reparto Xyz. Anche qui consiglio sempre mostri luce. E i rank che consiglio sono specialmente rank 4 e anche qualche rank 3. Per il rank 4 ho messo un illumino cavaliere. Questo qui non lo andremo a calare quasi mai perché sono tre mostri di livello 4. Possibilmente inserite sempre Xyz che si facciano con due mostri. Questo qui abbiamo già visto sul canale. Questa carta, però vi rilego l'effetto. Una volta per turno possiamo staccare un materiale Xyz, mandiamo una carta dalla mano al cimi e peschiamo una carta. Quindi abbastanza dimenticabile come effetto, però non si sa mai. Poi ho messo così a caso un rank degli Yem selvaggi, ma ovviamente questo qui è proprio a caso a caso perché non giochiamo neanche a mostri rettili. Quindi vi dico, è giusto per riempire un po' il reparto Xyz, ma ripeto che potete sostituire con qualsiasi mostri dell'O4. Non so, luce ovviamente. Magari anche qualche utopia come avevo già pensato. Poi abbiamo un maestro che è il Dijin della sinfonia. Insieme a lui giochiamo, ecco magari se mi fa riflesso la luce, tutti i musicisti. Quindi abbiamo il Dijin dei tamburi, il Dijin dei tasti, il Dijin della tromba. Ma non ho messo il Dijin della chitarra perché lo gioco già nella nera, poi mi sembrava abbastanza ben fornito così il reparto Dijin. L'effetto, insomma, gli effetti di queste carte si fanno sempre con due mostri di livello 3. Questa carta ci dice che una volta per turno possiamo staccare un materiale, va bene. Scegliamo come versaglio un mostro Dijin e quel mostro può attaccare due volte. Invece il pianist, eccolo qua, ci dice che possiamo attaccare fino a due carte dalla mano a un mostro Dijin che abbiamo nel cimitero. Quindi prendiamo il mostro Dijin nel cimitero, lo evochiamo, ci attacchiamo due mostri dalla mano. E una volta per turno stacchiamo un materiale che si sta questa carta, scegliamo un versaglio, un mostro Dijin e adesso può attaccare direttamente. Questo effetto è molto interessante. Poi andiamo con lo Dijin dei tamburi. Una volta per turno, possiamo staccare un materiale Xyz da questa carta. Scegliamo versaglio un mostro Xyz controllato dall'oppo e stacchiamo un materiale Xyz da quel mostro. E tutti i mostri Dijin guadagnano 500. Questa carta ci diventa facilmente un 2002. E inoltre lo andiamo soprattutto a giocare se il nostro avversario gioca card Xyz, altrimenti non avrebbe molto senso. Poi andiamo con il maestro che è il Dijin della sinfonia. Questa carta già ve lo dico, è quella che andremo a evocare più spesso. Una volta per turno, stacchiamo un materiale Xyz da questa carta. Scegliamo un versaglio, un mostro scoperto in posizione di attacco controllato all'oppo. Lo mettiamo coperto in posizione di difesa. Poi se un mostro Dijin che controlliamo sta per essere distrutto, possiamo invece staccare un materiale Xyz da quel mostro. Ovviamente il secondo effetto è più dimenticabile, ma il primo ci interessa particolarmente. Poi giochiamo un Terror Bite, giusto per prendere il controllo di un mostro dell'avversario. Una volta per turno, possiamo staccare un materiale Xyz da questa carta. Scegliamo un versaglio, un mostro di livello 4 inferiore controllato dall'oppo e ne prendiamo il controllo. Poi magari potete anche giocare Link per linkarvelo via, oppure se è un mostro che ci interessa possiamo fare Xyz o Syncro dal caso. Poi andiamo con Incrociatore di Garofano, anche questa carta l'avete già vista, suppongo. E sempre per la questione Xodia, ripeto, che giocano tutti i max Xodia qui nei dintorni. Quindi è obbligatoria giocarla, anche perché hanno solitamente mani enormi, quindi se noi andiamo a staccare un materiale Xyz da questa carta e infliggiamo 200 danni per ogni carta che ha nella mano, possiamo fra un po' vincere le partite solamente con questa carta. Poi andiamo con la carta Paleozoica, questa carta si evoca veramente veramente easy con le varie carte trappola. Questa carta ci dice che è immune agli effetti degli altri mostri, inoltre l'effetto ci dice che se una carta trappola che controlliamo viene mandata al cimitero, ti sotterriamo la prima carta dal mazzo, se è una carta trappola la diamo alla mano, se no la mandiamo al cimitero. Quindi se è una carta trappola benvenga, ce la diamo alla mano, se no mandiamo al cimitero la carta che è, tanto siamo nel mazzo fedele, quindi se mandiamo tutto al cimitero noi siamo contenti. Inoltre se questa carta ha un materiale Xyz attaccato ad essa, ed è una carta trappola, quel materiale Xyz, noi possiamo staccare un materiale Xyz da questa carta, scegliamo un brassaio, un mostro sul terreno e lo distruggiamo. Questa carta veramente può fare anche il caffè, fa praticamente tutto ed è veramente veramente semplice da evocare. Abbiamo così finito anche l'extra deck e passiamo un po' a un paio di mani di prova. Eccoci qui con le mani di prova, ripeto che il mazzo a me diverte molto, a me piace veramente tanto. Infatti probabilmente in futuro lo vedrete su Edo Pro, lo porterò insomma alla versione sicuramente un po' più competitiva, anche mista un po' con il caos. E ecco, questa versione non è che è proprio going second, going first, se la cava bene, molto bene per entrambi, quindi magari facciamo una mano di prova going second e una going first, ma giusto, molto molto fast come mano di prova, anche perché possiamo specialarci poco, quindi il mazzo si vede un po' più nel game lungo, come molti mazzi for fun, tra l'altro. Quindi andiamo, non so, iniziamo con going first, magari. Quindi 5 carte. Eccolo qua. C'è abbastanza poco, in realtà, da fare. Io magari consiglierei di attivare un reame della luce, sempre. Poi settiamo il palio, andiamo a normalarci lei. Lei alla fine del turno ci manda al cimitero le due carte. In questo caso anche un palio, quindi è abbastanza buono. E qui guadagna un segnalino. Purtroppo non è che abbiamo avuto una grandissima mano. E' un po' la prossima. Già questa qui sarebbe stata meglio se questa qui fosse ancora in vita. Possiamo andarci a normalare lei e facciamo sincro, evochiamo Michael. Andiamo a vedere la seconda mano di prova, going second. Eccoci qui con la seconda mano di prova. Già intanto vi anticipo che probabilmente uno dei prossimi mazzi che vedrete, così a occhio croce, penso sia il Red Ice. Ovviamente senza Dragon, però è un mazzo che anche quello lì è molto 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 divertente. Poi seguirà penso una rubrica di vari mazzi, che in realtà non sono proprio come questi, che l'ho modificati parecchio, ma sono più o meno molto simili allo structure originale. Quindi non come ad esempio quelli che avete visto finora, che si scostavano molto, ma saranno mazzi molto attinenti allo structure. Magari avrò modificato un po' di carte, ma giusto poche poche. Poi insomma andremo a vedere. Tanto andiamo qui con 6 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 E vediamo un po' cosa ci esce. Ecco quindi sicuramente adesso scendiamo a settare queste due carte in maniera tale che i nostri mostri sopravvivano il più possibile. Attiviamo il reame della luce, poi attiviamo la nostra carica, mandiamo le prime 3 carte del deck al cimitero. 1, 2, 3 Si attiva l'effetto di Minerva, quindi andiamo a mandarcene un'altra. In realtà avremmo voluto darci Minerva, ma visto che ce la siamo mandata al cimitero, la nostra scelta ricade su Raiden, la mano fedele della luce. Già il mazzo sentite, no in realtà non lo potete sentire, però già è molto molto sottile. Attiviamo Raiden, mandiamo 2 carte, top, paleo e 3 carte. Guadagna 200 in attacco, si attiva anche i segnalini, quindi finora ne abbiamo mandate 2. Quindi in realtà abbiamo due segnalini, lui ha 1.000 e 2.100. Per ora la concludiamo così, molto probabilmente questa carta sarà viva, insomma, nel prossimo turno. Anche perché noi avremo queste due carte, questa che aumenta punti d'attacco, questa carta che mette coperta, insomma, il mostro. No, scusate, che scartiamo la carta paleo e peschiamo 2. Quindi ecco, volendo in realtà, giusto, l'avevo vista male, perché sono un po' tutte uguali queste carte paleo. Questa carta ce la possiamo anche tenere in mano, quando scocca il turno dell'oppo, mandiamo 2 per l'effetto suo. Abbiamo abilità risolutiva al cimitero per negare l'effetto di un mostro all'avversario. Attiviamo l'effetto della carta trappola, carta trappola, scarta una carta trappola, pesco 2. Ok, prossimo turno, peschiamo 1. E questa qui è la nostra situazione. Quindi cosa fare in questi momenti? Allora, possiamo fare varie acusucce, intanto triggerare l'effetto suo e mandiamo 2 carte al cimitero, si attiva la carta al magia terreno e mettiamo un segnalino. Poi, cosa possiamo andarci a evocare? O ci andiamo a evocare Lilia, insomma, la fede della luce, e qui possiamo mandarli via per fare un sincro livello 8, se lo avete. Io in questo momento non ce l'ho, come avevo detto. Quindi potete anche sovrapporli e fate, insomma, in base a quello che l'oppo vi gioca. Oppure, se l'oppo ancora non nega che vi ha ancora calato nulla, potete anche andare a calare una barriera. Io in questo momento non la calerei solo per il fatto che non potrei ben proteggerla. Preferirei in questi casi mandare una carta di livello 4 per fare X-I su sincro, ecco, insomma. Sicuramente, ecco, questa mano è stata decisamente meglio. Quindi, io intanto vi dico che ci becchiamo con le conclusioni finali del video. Eccoci qui giunti alle conclusioni finali del video. Vi ricordo che se il video vi è piaciuto commentate, condividete, se non siete iscritti iscrivetevi, attivate la campanellina, tutte le solite cose, passate sul mio Instagram, anche sul link del server Discord dei tornei. Niente, quindi io vi saluto e vi rimando ai prossimi video del canale. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao! Grazie a tutti